Finisce bene per l'Inter una partita che rischiava di cominciare male, Mandorlini salva sulla linea un pallone di Marronaro dopo l'errore di Fanna. La capolista continua la sua marcia decisa anche se il Bologna è riuscito a difendere lo 0-0 per un'ora e un quarto. Dopo l'azione di Matteus un destro di Breme con Sorrentino che si vede spuntare il pallone all'ultimo momento. Poi grande intervento del portiere bolognese su deviazione di Bergome, anche il tentativo di Serena va a vuoto. Un po' in difficoltà per il poco spazio l'Inter manca il gol con Berti favorito da un errore di Stringara. E l'ultima azione di Berti poi sostituita da Bianchi, dall'altra parte Marronaro e Alessio danno un po' di fiato alla difesa. Con Diaz bloccato in mezzo il solito Serena cercare il gol partita, gol che arriva verso la mezz'ora della ripresa quando Serena sfrutta un lancio di Bianchi e mette in rete. 1-0 e gol che rivediamo. Poco dopo il Bologna rimane in 10 per l'espulsione di Alessio. Dagli spogliatoi i commenti con Claudio Valeri. A San Siro l'intervista ad Aldo Serena è quasi obbligatoria, anche perché segna sempre dei gol decisivi per l'Inter. Sì, mi auguro di farne ancora. Oggi era molto importante vincere, visto alla luce anche del risultato di Torino, perché questo Napoli non perde colpi e quindi dovevamo vincere per forza, pur non giocando bene ce l'abbiamo fatta e che è molto importante. Massimo Bonini, il Bologna ha perso a San Siro contro l'Inter, però ha convinto più che in altre occasioni. Sì, diciamo che nel calcio contro i risultati, però abbiamo disputato un'ottima partita tattica, abbiamo contrastato quest'Inter che sta viaggiando veramente forte, però alla fine contro i risultati noi non siamo riusciti a portare via nemmeno un punto. In particolare mi pare che hanno spinto molto sia Bergomi da una parte che Breme dall'altra. Sì, tanto è vero che anche ho ripetuto lo stesso motivo con Bianchi e con Fanna, allargando le loro maglie difensive, non diciamo che è stata una mossa vincente, però ci ha permesso di costringerli ad allargarsi un po' di più e da un cross di questi nel stato di Torino.